Radio Bari sono le 8.22 di martedì 8 luglio, ben ritrovati al secondo spazio del B&Gang dedicato agli approfondimenti e ve l'avevo preannunciato all'inizio della nostra trasmissione ospite di questa mattina l'assessore allo sviluppo economico del comune di Bari, il mio assessore allo sviluppo economico del comune di Bari, Carla Palone, buongiorno assessore. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui, vi ricordo il numero per intervenire in diretta allo 080 501 4668 ma visto che insomma sono iniziati da pochi giorni i saldi, sabato prima giornata in Puglia ha fatto un giro per le strade dello shopping cittadino? Sabato mattina sì, sabato mattina abbiamo fatto questa passeggiata insomma anche se era bene a mia ambitudine il sabato mattina farmi la passeggiata insomma per il Borgo Morettiano, per il centro, abbiamo incontrato dei commercianti, ero accompagnata con Sandro Ambrosi, il presidente della Camera di Commercio abbiamo fatto una chiacchierata e si va avanti, iniziamo questo percorso. Nonostante fosse sabato, nonostante facesse caldo, però comunque gente in giro ce n'era? C'era gente, sì sì, la gente aspetta i saldi insomma anche per gli acquisti, i commercianti non si sono lamentati, certo il problema c'è, la crisi c'è, non è risolvibile in un paio di giorni quindi attendiamo, attendiamo sì. I saldi potrebbero essere, possono essere un rilancio per l'economia della nostra città? Sì, sicuramente si fanno i saldi proprio per questo, è un rilancio solo che con i saldi vanno, io dico sempre che bisogna accompagnare il consumatore a una novità, quindi non più la classica passeggiata ma creare un momento di, anche di promozione insomma, di, non dico spettacolo perché sarebbe fatto troppo, però accompagnare il consumatore non solo all'acquisto ma a vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, qualcosa che possa stimolare anche l'acquisto. Perché tra l'altro il rilancio dell'economia cittadina, il rilancio del commercio a Bari era uno dei punti cardine della campagna elettorale proprio di Antonio De Caro. Sì, infatti noi porteremo avanti il suo programma, che è il nostro programma, il programma della città, scritto con i cittadini, scritto con la gente comune, la gente normale, mi reputo insomma, sono anch'io perché vengo dal mondo della strada, non sono una politica, non ho appartenenza a punto politico, ce l'ho fatta, ci sono riuscita, quindi la mia vittoria, il mio assessorato è l'assessorato un po' di tutti. E certo, l'assessorato un po' dei cittadini, no? Poi lo slogan, ecco, la campagna, il sindaco siamo noi, insomma, viene riproposto ogni volta, insomma, anche dall'inizio della storia, insomma, della squadra, della nuova squadra di governo di Palazzo di Città. Molti commercianti, però, si sono lamentati del fatto che i saldi inizino di sabato, soprattutto nel periodo estivo, perché giustamente dicono il barese è meglio il sabato mattina, quando fa caldo, quando è estate, va a mare, dice quindi, va al nostro discapito, perché non incominciare i saldi dal lunedì? Io mi sono informata di questo perché sto studiando in qualche modo, bisogna iniziare da qualche parte. Non è una legge comunale, ma è una legge regionale, che si discute nei tavoli regione-stato, quindi ascolteremo le associazioni, ascolteremo le associazioni di categorie, abbiamo parlato anche, ripeto, con il Presidente della Camera di Commercio, noi siamo, diciamo, a disposizione per ascoltare e per trovare delle soluzioni. Trovare delle soluzioni ai commercianti, abbiamo parlato di shopping, di saldi, le strade diciamo centrali della città erano abbastanza piene, però ci sono altre strade, di altri quartieri di Bari, in cui i negozi purtroppo continuano a chiudere, faccio un esempio su tutti via Amazoni, l'esempio viene facile. Via Amazoni non me le vogliono i colleghi del Murattiano, ma via Amazoni è la mia priorità in questo momento. Io sono cresciuta, insomma, nel quartier Libertà e per me via Amazoni era la via dei Balocchi, in qualche modo, quindi il barese medio acquistava in via Amazoni, io acquistavo via Amazoni, quindi la passeggiata o l'acquisto in via Amazoni per me era festa, e ti parlo di vent'anni fa, forse anche più. Quindi rivederla adesso, ci sono passata proprio ieri sera, ed è una cosa, è guerra, non è possibile, fa male al cuore via Amazoni, per il barese fa male. Sicuramente starà facendo un po' i compiti a casa, no? Nel senso che si starà informando su quali sono le strategie migliori, soprattutto per rilanciare il commercio. Sono in stretto contatto con l'assessore alle culture, con Silvio Maselli, stiamo cercando una strategia insieme, quindi abbinare cultura, promozione, marketing e commercio. Ho bisogno dei commercianti, io ho bisogno di loro, perché è da loro che deve portare. Possiamo dare, ripeto, tutto il supporto, però le idee le dobbiamo condividere insieme, e questo per me è fondamentale, quindi non mi devono vedere come un nemico, anzi, devono sfruttare la mia presenza, sfruttare, tra virgolette, la mia presenza per portare, insomma, delle cose belle in città. Perché i veri protagonisti alla fine sono loro. Sono loro, certo. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Barbara. Buongiorno, buongiorno. Albre. Albre. Prego Albre. La voce, l'abbiamo persa domenica. Allora, io sinceramente da un lato sono felice di questa situazione gravissima di via Maldon, perché i commercianti baresi, perdonatemi, ma se la meritano tutta. Non hanno fatto niente in questi anni per cercare di animare le proprie zone, non hanno fatto niente per cercare di aiutare magari gente che non può deambulare o visabile ad entrare nei propri negozi con delle rampette di legno o con dei servizi, non hanno fatto niente per mettersi insieme e fare delle manifestazioni per invogliare la gente a venire verso i propri negozi. Sono rivolti con gli occhi verso la propria cassa e con le lamenti e le verso gli altri. Stanno con quello sguardo perso fuori dai loro negozi a lamentarsi dalla mattina alla sera. Signori, ve lo meritate e ve lo meritate tutto, perché le associazioni cerchiano da anni di coinvolgere i commercianti baresi nel fare attività. in tutti i paesi del circondario si fanno queste cose, a bari no. Benissimo, i caproni forse è tempo che ritrovino il proprio vino. Grazie per il suo intervento. Grazie per il suo intervento. Ne parlavamo prima, proprio unire la cultura, spettacoli, attrattive. Diciamo che i commercianti baresi devono iniziare a fare rete. Esatto. È vera questa cosa che si isolano in qualche modo, perché si pensa alla concorrenza l'uno con l'altro, invece no. La forza è proprio quella dell'associazione, del consorzio, di aggregarsi, perché così ci si presenta meglio, anche volendo parlare ai tavoli della regione, dello Stato, fondi europei. Quando si fa gruppo si va avanti, sempre. Quello che dovrebbero iniziare a fare sicuramente l'amministrazione comunale in questo darà loro una mano e darà delle linee guida per iniziare a farlo. Ci devono seguire però. Esatto. È l'appello che lancia questa mattina. Con forza dico pretendo, perché non possiamo lamentarci e non far nulla. Quindi ci lamentiamo se facciamo qualcosa e non funziona. Ok, quello va bene. La critica ci sta. Che sia costruttiva. Stiamo iniziando a parlare di distretto, del cosiddetto DUC. Una cosa che so, insomma, che è in corso da anni, però non si è ancora siglato o sigillato il tutto. L'obiettivo mio è quello appunto del DUC. Quindi un distretto, un consorzio, tutti i commercianti che possono essere da via Sparano, via Argyro, perché insomma il cuore è murattiano, via Manzoni, ma anche Corso Benedetto Croce o Iapigia o Palese e quant'altro. Assessore, ci proviamo. Ci proviamo, noi ci proviamo. Lo dicevo prima, bisogna iniziare pur sempre da qualche parte. Perché non iniziare proprio da un distretto, da un consorzio, da una rete effettivamente di commercianti. Per quanto riguarda invece le aperture dei negozi a Bari, c'è stato un allentamento, ecco. Hanno un po' ceduto a quelle che poi sono diventate le regole anche del turismo a Bari. Bari si è un po' allargata, si è un po' aperta ai turisti stranieri, croceristi, pellegrini, insomma. Non dico che è diventata una città internazionale, però insomma quasi. Dobbiamo far di più. Dobbiamo decisamente far di più. Quello che è stato fatto in questi anni, io ho stima anche dell'uscente ormai. Ho già Assessor Vasile, che con il suo marketing interritoriale comunque ha portato novità in città. Non si parla proprio di marketing, si parla di spettacolo, si parla di attrazione, si parla di movimento, non so, definiamolo come vuoi. Comunque la città con Antonio Vasile secondo me ha fatto un ottimo lavoro e quindi continueremo su quella scia. Beh, ha fatto parlare anche di sé, insomma, Bari. Penso alle iniziative di San Valentino, insomma, ne parlavano non soltanto i quotidiani. Ha fatto. Nel bene e nel male qualcosa ha fatto. Poi chi fa è sempre sotto critica, insomma. L'importante è far qualcosa. Questo è vero. Questo è vero. Anche perché il commercio deve essere un po' attrattiva, Eh sì, sì, perché la gente è stanca di acquistare soltanto. Poi sembra davvero un favore personale quando si va in un negozio. Il problema è che manca il sorriso. Io lo dico sempre. Vero. Questo è vero. Questo è vero. Magari manca il sorriso nei dipendenti. Sì, quindi bisogna invogliare la gente ad acquistare perché è antipatico, insomma, entrare in un negozio e trovare una cosiddetta, tra virgolette, commessa che ha il muso o è sgarbata nei tuoi confronti. Studieremo anche questo perché per me la formazione del personale è importante. L'assessorato allo sviluppo economico comprende tantissime deleghe, comprende tantissime tematiche. Infatti non è l'assessorato al commercio. Infatti non è solo quello. E tra le sue deleghe ci sarà anche quella dei mercati cittadini. Mercati che è un punto un po' dolente, un po' neo della nostra città. Sì, ho incontrato già la prima associazione. Sto studiando, lo dico, tutte quelle che sono le leggi, le problematiche dei mercati. Datevi un po' di tempo, insomma, per parlare anche di mercati, di problematiche. Abbiamo un problema da risolvere in modo, insomma, quasi istantaneo e lo farò. E i mercati, sì, è un'altra problematica. Sia quelli rionari, sia quelli settimanali, quelli giornalieri. Bisogna studiarli tutti, categoria per categoria. Esatto, sì. Però io ho bisogno di chi fa mercato, insomma, per comprendere meglio. Ho richiesto anche loro di accompagnarmi a fare questa passeggiata dei mercati. Insomma, ho bisogno davvero di tutti, di tenere per mano tutti per iniziare a lavorare. Da sola non vado da nessuna parte. Questa è la politica della mia azienda. Io dico sempre che l'azienda non è mia, è dei miei dipendenti. Se vanno avanti loro, vado avanti io, perché da sola non fai niente. Sei nulla. Da sola sei nulla. Un consiglio che può dare durante i saldi, al di là del sorriso, che credo che sia il consiglio più prezioso da dare ai commercianti in periodo di saldi. Però un consiglio oltre quello? Non ci sono altri consigli, perché io non devo insegnare nulla ai commercianti barisi, perché sono storici, hanno tutti un'esperienza, 20 anni, 30 anni alle spalle. Quindi io non posso consigliare loro cosa fare. Sicuramente dico di seguirmi, di starmi accanto e di migliorare insieme la città. Insomma, insieme, farrete in ogni caso. E questo è il consiglio dell'assessore Palone. Assessore, allora, speriamo che veramente questa stagione di saldi estivi possa andare bene per la nostra città. Insomma, ce lo auguriamo davvero tutti. Ce lo auguriamo per Bari, ce lo auguriamo anche per i commercianti baresi, che in fondo in fondo se lo meritano. Beh, sì, se lo meritano, perché comunque i commercianti baresi sono le persone corrette. Io credo molto nel commercio baresi. Ci auguriamo, insomma, che le cose possono andare meglio. Ma non dipende dall'assessorato. Ovviamente, ovviamente. Dipende un po' da tutti. Le 80 euro, insomma, di Renzi può essere un incentivo. C'è chi dice sì, chi dice no. Ci stiamo provando in qualche modo a far sì che l'economia... Noi pensiamo alla nostra città per il momento. Oggi su cosa lavorerà l'assessore? Oggi devo incontrare tutti i miei collaboratori dell'assessorato. Ho voluto una sorta di riunione e festa con loro, perché voglio conoscere, voglio trasmettere loro positività. Quindi oggi facciamo questo principalmente. Sarò tutto il giorno in assessorato fino alle 18, 18 e 30. Insomma, c'è tanto da lavorare. Tanto, tantissimo. E vedremo i frutti del suo lavoro, sono sicura, a breve. Me lo auguro. Ce lo auguriamo anche noi. Io voglio critiche costruttive. Critiche, ma costruttive. Ok. Questo era un messaggio subliminale dell'assessore Paolo Palone. Io la ringrazio, assessore, per essere stata qui con noi in trasmissione. Ringrazio anche voi per averci seguito, ma rimanete con noi a tra pochissimo con l'appuntamento con lo sport e soprattutto con il Bari insieme a Cristian Siciliani.